nell'ora tarda della sera partita l'ultima persona amica o indifferente per la quale essa provava l'orgogliosa e invincibile necessità di mentire chiuse tutte le porte ermeticamente piombata la casa nel profondo silenzio notturno interrogate con lo sguardo sospettoso file fantastiche penombre della sua stanza solitaria dove sola vivente era una pia lampada consumantesi innanzi a una sacra immagine prosciolto il suo spirito dall'obbligo della bugia e le sue labbra dall'obbligo del sorriso ella si lasciava bruciare dalla grande fiamma immobile con le palpebre socchiuse e le mani abbandonate lungo il corpo ritta come un bianco fantasma nel mezzo della sua stanza sentiva un flusso di calore salire alle guance delicatamente brune e smorte un flusso di calore vivificarle il cervello un'onda di lacrime calde pungerle i bellissimi grandi occhi bruni scorrevano taciturnamente senza singhiozzi le lacrime calde sulle guance e le abbampanti guance se le ribevevano dal cuore e dal cervello che ardevano si diffondeva per tutta la persona l'impetuoso torrente di quel calore ed ella sentiva tutte le sue piccole vene palpitare nella fiamma che le dilatava lo scoppio della passione lungamente represso in quel generoso organismo assumeva la forma di febbre ad altissima temperatura ed essa vacillante come se avesse smarrito il senso di ogni altra cosa che la sua febbre non fosse si lasciava cadere sul letto rigida con la vestaglia bianca che si stendeva come un sudario sul broccato scuro della coltre così sola con gli occhi sbarrati ove si disseccavano le estreme lacrime guardando il soffitto pieno di ombre col petto sollevato da affannosi sospiri come i febbricitanti e la bruciava di passione per l'assente per il lontano nelle sue labbra convulse osavano pronunziarne il dolce nome temendo che le fatali sillabe pronunziate in quel silenzio in quella solitudine rivelassero a tutto il mondo il suo segreto sopra un fondo di fiamma nella sua fantasia che vampeggiava ella vedeva scritte le sillabe divoratrici di quel nome in lettere nere e vive talvolta immobili talvolta confondentisi in una bizzarra danza ma non osava pronunziare quelle sillabe seduttrici temeva distruggersi dicendole temeva di morire di dolcezza pronunciandole quell'entrata così vibrante di febbre appassionata nelle prime ore della notte si ripeteva due o tre volte pareva che ella si assopisse in un soave abbrucciamento di sangue in un seguirsi di fiammeggianti visioni dove talvolta accanto al nome adorato si veniva a delineare vagamente un fiero profilo maschile dove uno sguardo superbo e amoroso lampeggiava ed ella sentiva tutto il suo spirito carezzato cullato da questa visione la veglia si tramutava in sopore febbrile e in sogno ma ogni tanto la visione diventava così vera così viva così fremente di amore che ella udiva si udiva una voce sommessa a pronunziare il suo nome e la trabalzava ripresa da un soffocante impeto di passione cercando con le mani nell'oscurità quelle calde mani amate soffocava bruciava si levava come un'anima errante andava al balcone sollevando la pesante tenda di broccato schiudendo le imposte di legno appoggiando l'acceso volto sul gelido cristallo era alta la notte nella strada non passava alcuna spesso il freddo vento notturno agitava le fioche luci dei lampioni riempiendo la via di bizzarre forme oscure o qualche viandante in ritardo ignoto a capo basso passava senza accorgersi di quel balcone quietamente mitemente illuminato dietro il quale stava un'ombra immobile qualche malinconica carrozza notturna vuota dal cocchiere sonnacchioso dal sonnacchioso cavallo veniva lentamente dall'alta ombra della via si perdeva lentamente lontana nella bassa ombra della via e la guardava questo spettacolo di oscurità e di pace con gli occhi intenti sentendo il freddo esteriore penetrare dalla fronte dalle guance dalle labbra che quasi baciavano il cristallo la sua febbre si calmava le vene battenti si chetavano il petto oppresso respirava più liberamente macchinalmente ella si staccava dai cristalli richiudeva le imposte lasciava ricadere le molli strascicanti tende di broccato faceva un paio di giri nella sua stanza guardando talvolta nell'alta e stretta specchiera la sua figura bianca e i suoi occhi che bruciavano sempre come tutti quelli che soffrono d'insonnia per una forte causa morbosa o per una forte causa morale ricoricandosi ella sentiva come un grande refrigerio dolcissimamente parea che si dovesse addormentare nel ricordo nella speranza del suo amore la passione consumatrice nell'ora che fuggiva si faceva tutta tenerezza letificante diventava un fresco soffio che le alitava sulla fronte sugli occhi sulle labbra sulle mani come a vincerne il bruciore ed ella si assopiva nuovamente con le labbra che si muovevano a una benedizione ma ad un tratto un incubo mostruoso senza nome qualche cosa come un'orribile paura la scuoteva la faceva balzare sul letto come cercando soccorso non sapendo non conoscendo non pensando più nulla vinta da uno spavento folle era allora che elevatasi nella penombra in preda a un delirante bisogno di soccorso e la andava a buttarsi innanzi alla sacra immagine prostrandosi sul gradino dell'inginocchiatoio abbassando il capo sul duro legno di quercia dicendo rapidamente le preghiere per non pensare per non sentire pregando 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 con un fervore di anima disperata restando lì attaccata a quel legno come se fosse quello della sua salvazione ma sia che l'alba la sorprendesse dietro i cristalli del suo balcone o distesa sul letto con gli occhi spalancati o sonnecchiante malamente o immersa in preghiere con le labbra frementi sui grani di legno del suo rosario certo che a quell'ora gelida la sua febbre era domata era caduta e la tremava di freddo pallida con le labbra violace e con la bocca amara con le ossa rotte quasi uscisse dal terribile abbraccio della terzana il viso le si era allungato e come pietrificato in un'espressione di sofferenza i capelli le ricadevano sul collo disciolti prendendo certi profili tragici che solo le chiome delle donne appassionate hanno invano cercava di riscaldarsi buttando sul letto una pelliccia facendo un gran fra quel grande calore esteriore ella batteva i denti si addormentava rambrividento rambrividento livida con la fiamma del caminetto che crepitava con le candele la cui fiammella strideva nel calore col sole mattinale che entrava scintillando fra i velluti i broccati e le pellicce non giungendo a riscaldare quel gelido corpo di una donna dormiente dalle palpebre scure e fredde come il granito dalle labbra sottigliate e tremanti ancora di freddo come la mattinata scorreva entrava la cameriera trovando le candele che si consumavano le legne arse che si coprivano di cenere il sole che invadeva tutta la stanza gaiamente e quel cadavere dormiente che riaprendo gli occhi rabbrivediva ancora come se ritornasse dal gelo di un sepolcro ogni mattina sopra un piatto di argento la cameriera porgeva una lettera ma già la maschera umana aveva velato la sembianza della povera febbricitante ed ella stendeva la mano con indifferenza a prendere quella lettera aspettava che la cameriera avesse spento i lumi riacceso il caminetto spalancato le imposte al sole aspettava intorpidita e immobile si sente male diceva la cameriera guardando il volto bruno e smorto della sua padrona che l'amava no ho freddo murmurava la padrona stringendo la lettera d'amore nella mano sottile e agghiacciata senza neppure guardarne la busta come se fosse inutile aprirla la fanciulla devota le riassettava le molli coltri scomposte dall'insonnia le rialzava i cuscini disordinati su cui era abbandonata la foltezza dei capelli neri la interrogava con una umile occhiata ma vista la padrona tutta perduta in un pensiero usciva discretamente dalla stanza chiudendone la porta aspettando di essere chiamata per ritornare allora soltanto con un atto breve quasi convulso la smorta signora faceva saltar via la busta lacerata e leggeva la lettera tutta bruciante di passione che il suo amore le scriveva lettera incoerente e puerile balbettio talvolta bizzarro talvolta monotono di frasi stravaganti che si ripetevano si accavallavano si confondevano si affannavano sulla carta come nell'anima malata di chi le scriveva eppure egli non era né un fanciullo né un pazzo né un infermo era un uomo di trent'anni vigoroso completo nella sua manifestazione morale che aveva saputo vivere amare soffrire era un forte lottatore che le aveva coraggiosamente combattute le sue battaglie talvolta vinto spesso vincitore mai domato era un sagace conoscitore di se stesso delle cose e degli uomini capace di grande scetticismo e di grande entusiasmo poiché questa è la vita e saggio chissà apprezzarla e viverla così eppure quell'amore nato tardi nato improvvisamente come quei misteriosi e voluttuosi fiori del tropico che germogliano ricchi e violenti in una notte quell'amore impetuoso destinato a essere soffocato sotto le apparenze fallaci della cortesia gli faceva tremare i polsi come se lo assalisse a ogni suo nuovo tumulto il ribrezzo tragico dell'agonia in certe ore di pensiero quando gli era concesso di dialogare con l'anima sua egli si stupiva della brevità di quella passione della sua semplicità mentre sentiva dentro di sé scardinato ogni senso della realtà mentre si sentiva preso per la vita e per la morte una sera in un ballo egli aveva scambiato poche parole con la bruna e pallida signora che ancora portava il nero vestito del lutto dopo tre anni di vedovanza che bizzarramente trascinava al ballo il nero vestito e la persona stanca senza sorrisi né gioia e come per un'attrazione ipnotica egli aveva seguito dovunque il nero strascico di velluto ondeggiante cupo velluto bruno simile alle acque nere di un lago che gli alberi coprono egli aveva fissato gli occhi sedotti sopra la mezzaluna di opali latte scintillanti in riflessi siderali azzurrini che mettea una luce selenitica fra i capelli neri di donna grazia e come la snella persona muliebre si muoveva indolentemente da un salone all'altro egli sentiva di doverla seguire come un'ombra levando lenta lenta le palpebre essa lo guardava ogni tanto tacendo e una irradiazione di fascino partiva da quei grandi occhi neri arrivava sino a lui intensa vibrante conquidendolo a poco a poco ma continuamente ma sicuramente né egli tentava difendersi aveva in quell'ora il cuore arido e la vita fatta deserta se non libera da una secreta catastrofe familiare la donna a cui aveva dato il suo nome era assente lontana nemica egli era solo in tutta la sua lunga giornata solo perché difendersi si sentiva debole e misero come un fanciullo abbandonato mentre tutti applaudivano alla sua fermezza di carattere al suo coraggio virile alla dignità fiera che gli aveva suggerito la risoluzione più confacente al suo onore egli si sentiva timido e fragile come lo stelo secco che nelle mattinate di autunno va in cenere sotto il piede brutale del viandante e lo sguardo di quella donna parea tremasse di tenerissima pietà parea che gli dicesse vieni breve romanzo e intenso condotto fuori di loro da una mano invisibile un giorno si erano incontrati fuori roma in quella umida lugubre via angelica lungo il fiume tragico che ogni giorno ha il suo morto chi aveva strappato la dama ai suoi convegni aristocratici per mandarla a contemplare i vortici traditori del tevere chi aveva preso l'uomo alla sua ambizione alla sua politica ai suoi affari esiste dunque una fatalità nella passione o il cuore alla sua seconda vista che è anche qualche cosa di fatale o viene l'anima una seconda vita latente incosciente sopra cui nulla può la volontà è vero che mi ami le aveva chiesto lui arrossendo e impallidendo come se quella fosse la prima volta che parlasse di amore sì e l'aveva detto senz'altro la virile mano dell'uomo aveva sfiorato la sottile mano guantata di nero si guardavano e si sentivano bruciare di passione una uguale grande fiamma li ardeva più la reprimevano e più essa divampava internamente consumando le loro forze in una febbre singolare temevano il mondo malgrado che fossero liberi lo temevano con una paura di tutti i momenti con un tremore come d'imminente catastrofe ognuno aveva il diritto di muovere loro un rimprovero eppure essi temevano tutto l'uomo che passa e sogghigna la donna che passa e sorride l'impiegato postale che consegna la lettera con uno sguardo di intelligenza il servo che domanda permesso prima di entrare l'amico che assume un'aria discreta l'amica che interroga con un cenno la più umile la più sciocca creatura li faceva fremere di spavento forse amandosi in quella forma così rovente sentivano di abbandonarsi a una passione tanto diversa dai miseri e fallaci amori quotidiani da dover meritare l'invidia il biasimo e la calugna forse il segreto è la grande condizione dell'intensità così si vedevano alla sfuggita ogni tanto avendo messo nella rapida ora tanti sogni tante speranze tanto fuoco d'amore che non trovavano parole soffocati come coloro che hanno le vertigini degli altissimi pinnacoli in tre o quattro mesi fra la primavera e l'estate vivendo egli a una villa sui colli albani essa nella palazzina campestre fra gli aranci di sorrento si erano incontrati due volte per due giornate in un villaggio presso milano la prima volta abbaglia la seconda volta tutta la loro vita era sospesa quei due giorni di passione ardente tutto l'intervallo fra quei due giorni non era che una lunga aspettazione di giorni aridi e annoiati di notti vegliate in una rivoluzione del cuore e dei nervi ad ambedue quando per consolare le ore di lontananza essi evocavano quelle due giornate appariva come una grande fiamma lieta e alta e divorante il ricordo era vasto immenso vago quale un oceano di fuoco sopra cui qualche punta appariva come estremo albero di nave sommersa insistentemente egli si rammentava il volto smorto di lei quando ella si affacciò al vagone e fermato nella stazione di monza e malgrado ogni suo impeto di evocazione pur volendo fermamente rivederla col suo delicato e profondo sorriso delle ore più felici egli continuava ad avere innanzi quella faccia pallida di donna morente egli cercava di rianimare tutti i suoi ricordi di quei due giorni come ella era vestita la foggia della sua acconciatura le parole che aveva dette il tono della sua voce ma una sola sensazione acuta squisita gli ritornava con la persistenza di un martello sull'incudine il profumo che aveva nei guanti morbidi di grazia e le mani sottili profumate quando le scriveva di quei giorni confusamente egli ritornava sempre a dire di quella faccia pallida allo sportello e di quelle mani odorose di quei guanti così profumati che è quel profumo dimmi dimmi amore perché io l'ho confitto nell'anima e ogni tanto mi fa piangere come un fanciullo perché il mio amore è lontano e io non posso avere sotto le mie labbra le sue mani inebrianti ed ella nella fiorita campagna sorrentina quando i villeggianti vicini o i suoi ospiti ritirandosi l'avevano lasciata sola libera ella voleva far riapparire fantasticamente quei due indimenticabili giorni di oasi ma armandosi con la stessa forza con la stessa intensità lo stesso inesplicabile fenomeno psicologico avveniva in lei ed ella non poteva che ricordare qualche scintilla della grande fiamma fra un turbine roteante di impressioni rammentava soltanto grazie a un sorriso enigmatico alla sua domanda e tu perché mi ami sì egli aveva avuto un sorriso bizzarro lungo pieno di un segreto profondo e la rivedeva sempre innanzi agli occhi quel sorriso acuto crudele che pareale nascondesse la verità tormentosamente e nelle orecchie nel cervello di grazia restava una sensazione fissa continua invincibile il ricordo della sua voce quando la chiamava sommessamente teneramente dolorosamente come se chiedesse amore e soccorso come se invocasse pietà grazie 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 così identica era la loro passione nel carattere nella profondità nella misura che il grande sogno da realizzare nacque nelle loro fantasie esaltate contemporaneamente germogliando nello stesso pomeriggio autunnale nella stessa ora di disperazione mentre erano lontani lontani per molte miglia ambe due furono colpiti dal medesimo irresistibile desiderio contro cui nulla più poteva difenderli ambe due arsero di tale desiderio come se fosse il più alto l'estremo delle loro anime l'immenso avvenire innanzi alle loro esistenze ancora giovani li sgomentava con la sua solitudine arida mentre essi portavano in cuore di che riempirlo per sempre di una strabocchevole felicità al punto in cui la grande fiamma che li ardeva era giunta in entrambi era loro insopportabile vivere ancora divisi lontani e strani lo stesso cupo dolore li abbatteva la paura del mondo delle sue charle delle sue calugne veniva man mano scomparendo innanzi a questo bisogno di amore di felicità che è in fondo a tutti i temperamenti umani più freddi e più silenziosi e che nell'ora della passione parla di una voce che nulla fa tacere per chi si sacrificavano in nome di quale principio di quale idea di quale persona su quale altare sconosciuto deporre l'olocausto della loro passione io non posso più soffrire la mia vita finisce scriveva grazia io non posso più soffrire il mio coraggio è esausto scriveva ferrante in tale ardente impazienza la loro sensibilità sentimentale raffinata dai sogni dalle insonnie dalle lettere incoerenti si era fatta così acuta così squisita così fremente alla minima impressione che quanto li circondava era complice del loro abbandono quando donna grazia passeggiava sotto gli ombrosi viali della sua villa di sorrento e fra gli aranci odorosi le arrivava il canto sottile di qualche voce innamorata un improvviso fiotto di lacrime la inteneriva e coloro che l'accompagnavano si meravigliavano quando ella vedeva nella sera dalla sua terrazza levarsi la luna sul golfo napoletano e tutte le case intorno soffondersi di bianca luce molle una collera le saliva alla gola di non essere via di non essere con lui in quell'ora di dolcezza una collera contro il tempo che fuggiva contro gli ostacoli che si frapponevano al suo amore e contro se stessa che non sapeva vincere gli ostacoli e a roma l'autunno è apportatore di nuovi profondi turbamenti alle anime già turbate quando ferrante portava il suo vagabondaggio a villa borghese dove ancora i viali pare che conservino la appassionata fantasima di beatrice cenci ogni ombra femminile snella dal volto pallido e bruno dietro la veletta lo facea trasalire quando egli portava il suo vagabondaggio serotino a uno dei teatri bastava che dietro alla nuca bionda di una donna in un palchetto si profilasse il volto di un uomo innamorato perché egli si sentisse a un tratto immerso in una disperazione inguaribile allora lontani divisi si tendevano le braccia come creature anelanti che sanno un posto solo dove appoggiare il capo stampo ed è questo il petto della persona che adorano assente lontana e allora confusamente nella crisi fatale di questa passione si venne delineando un piano di amore imperfetto vago ma che conduceva a un sol desiderio quello di rivedersi di stare insieme lungamente per sempre ognuno di loro invece di perdere la propria forza in vani conati di dolore avrebbe cercato di adoperarla a vincere tutti gli ostacoli morali e materiali per potersi riunire fra quindici fra otto giorni in un paese solitario tranquillo in un ambiente di poesia e d'amore dove potessero passare sconosciuti o indifferenti alla folla o ravvolti in una comune indulgenza chi di loro due disse la parola venezia chissà fu così naturalmente che i loro cuori si fermarono su quel mite orizzonte di arte di quiete su quell'ambiente di case mute e sommersa e nell'anguore che la morte precede su quella città dove l'amore pare abbia la sua naturale atmosfera di pensiero di lirica umana venezia venezia fu il nome amabile seducente che videro brillare ogni giorno ogni ora innanzi alla loro immaginazione parola magica che fece scomparire tutte le altre sillabe ravvolgenti e incantatrici da cui le loro anime prese legate non si potettero svincolare mai più e man mano le loro lettere andarono perdendo tutto quel carattere di indefinito tutta quella vaghezza di contorni quel continuo agitarsi e rabondo dello spirito quella incoerenza di anime deliranti la passione addossata al muro della realtà era entrata in un periodo vivo pratico preciso ogni giorno sotto la volontà inflessibile sotto la doppia inflessibile volontà il loro piano acquistava linea colore cifra il suo aspetto di fatto si veniva così minutamente facendo reale che già quasi quasi per grazia per ferrante parea di vivere in quella realtà accanto a questi particolari definiti matematici dove la loro insofferenza si appagava come per il fatto compiuto ogni tanto ma sempre più scarsamente si venia allungando qualche scoppio improvviso di frase amorosa oppure una parola soltanto venezia anche l'aspetto degli amanti era mutato si erano fatti nell'esteriore freddi risoluti distratti in un pensiero o in un'azione sempre occupati in qualche cosa schivando con la freddezza la folla degli estranei e anche quella degli amici parlavano poco brevemente non più le belle passeggiate della penisola sorrentina vedevano comparire il bruno volto pensoso di donna grazia ma in una stanza accanto alla sua erano aperti tutti i bauli tutte le valigie della casa e la cameriera che le voleva bene ignorava ancora la destinazione che prendeva la sua signora e la vedeva che ogni giorno donna grazia veniva chiudendo in quei bauli e in quelle valigie tutto quanto aveva di prezioso come valore e come ricordo e la vedeva che donna grazia si aggirava per la casa in vestaglia di lana bianca stretta alla cintura da un mistico cordone di seta nera guardandosi intorno come trasognata considerando le pareti vuote e i cassetti aperti come se volesse portare via ancora qualche cosa la signora parte per un lungo viaggio chiese timidamente un giorno la fanciulla devota lungo lungo mormorò vagamente donna grazia e io devo venire no meglio che non veniate soggiunse donna grazia tutta sola in un lungo viaggio osò chiedere ancora la ragazza donna grazia chinò il capo e non rispose un velo di tristezza le passò sulla faccia tacquero e ferrante come il giorno della partenza si approssimava non andava più nei soliti ritrovi di roma autunnale male o bene ma con una febbre di uomo preoccupato aveva cercato di risolvere alcuni affari stringenti assorbito distratto accettando qualunque peggiore risoluzione purché fosse immediata quando i suoi intimi lo vedevano ricomparire per un momento gli domandavano sorpresi ma che fai dunque parto rispondeva lui pensando ad altro dove vai e gli faceva un cenno vago come di paese molto lontano per discrezione gli intimi non chiedevano altro sapevano quale tragedia morale avesse sconquassata la sua famiglia e molti supposero qualche improvvisa bizzarra decisione anzi la voce ne corse avvolta in veli misteriosi una sera un amico più affettuoso più insistente andò a casa di lui e lo trovò solo fumando con le finestre aperte ma col caminetto acceso dove buttava delle carte dopo averle lette sul tavolino vi erano altri pacchi di lettere un grosso portafoglio di pelle tutto sdrucito due o tre libri dalla legatura usata e un paio di minute pistole nella loro scatola che pareva quella di un gioiello che fai ti vuoi ammazzare domandò ridendo l'amico forse rispose ferrante ridendo un poco ma poco né dissero altro mentre nel caminetto le lettere avvampavano allegramente così nell'alba bigia in cui donna grazia partì da sorrento per napoli mentre aveva detto ai suoi amici che sarebbe partita solamente la sera in quell'alba bigia la sua devota cameriera vedendola andar via avvolta nel grande mantello bruno avvolta nel bruno velo che le circondava il capo il viso il collo si chinò commossa a baciarle la mano io la rivedrò non è vero chiese cercando di trattenere le lacrime forse disse donna grazia andandosene senza voltarsi tanto la fatalità li aveva vinti ambedue donna grazia non vedeva né il mite sole che rallegrava le vie di napoli né le azzurrità fini del cielo e del mare né la folla lieta che si godeva quel giorno soave chiusa nella carrozza d'annolo guardando ogni istante il piccolo orologio sospeso alla cintura pur senza vederne l'ora ella divorava lo spazio con la mente cercava di ripetere per la millesima volta il calcolo del tempo e dello spazio per chetare la propria impazienza sarebbe partita da napoli per roma alle 2 e 55 col treno più celere tutta sola nel suo scompartimento sarebbe giunta a roma alle 8 e 35 della sera alla stazione avrebbe ritrovato ferrante e dopo un'ora e mezzo in cui non sarebbero neppure entrati in roma sarebbero ripartiti via firenze e bologna per venezia insieme insieme pensando ripensando pronunciando sottovoce questa parola e la vedeva scomparire l'ora il tempo lo spazio tutto una nebbia le scendeva sugli occhi una lieve vertigine le confondeva ogni moto insieme fu macchinalmente che pagò il cocchiere scendendo alla partenza nella stazione stringendo fra le mani il sacchetto dove erano i suoi valori più preziosi la grande galleria coperta dove si prendono i biglietti era quasi vuota e la non vi badò di prima per roma disse affannando un po al bigliettaio ecco fece quello ma si affretti perché il treno parte improvvisamente presa da una orribile paura e la si mise a correre vedendo appena la sua strada urtando le persone lasciando appena il tempo alla guardia di tagliare il biglietto arrivando sul terrapieno appena a tempo per vedere il treno delle 2.55 allontanarsi lentamente e la tese le braccia e gridò come se avesse potuto fermarlo un facchino sorrise mentre gli impiegati della stazione raccolti in gruppo la guardavano con curiosità alla paura e la sentì subentrare una grande angoscia e una grande vergogna rientrò nella sala di aspetto deserta si andò a buttare in un cantuccio stringendo le labbra per non singhiozzare dietro il velo stringendo nelle mani nervose convulsamente il manico di cuoio della borsetta perdere il treno che miseria che disgrazia ridicola che tragedia buffa le pareva un'avventura così sciocca così volgare che non sembrava possibile fosse capitata proprio a lei nel momento supremo in cui si decideva la crisi del suo amore era fremente di stegno e di onda tanta forza di volontà tanto impeto vincitore tanto magnetismo trionfante di amore tanta elettricità condensata e farsi buttare a terra da un orologio che non va o da un cocchiere che non ha saputo sferzare il suo cavallo avrebbe pianto di collera vediamo qual era la piccola meschina causa la causa stupida per cui tutto l'edificio era crollato e cercava in vano di ricordarsi se era stata la propria lentezza nell'annodarsi il velo in casa sua a Napoli nel suo appartamento solitario o l'esser tornata indietro un momento per aver dimenticato un taccuino da cui non si separava mai o il non aver trovato immediatamente la carrozza d'annolo o perché il cocchiere aveva prescelto la stretta, difficoltosa, ingombra via di forcella alla via della marina per andare alla stazione chi lo sa si trattava di cinque minuti di soli cinque minuti cinque piccolissimi cortissimi brevissimi minuti che si perdono così naturalmente così facilmente un po' qui un po' là senza saper come e la loro perdita poi equivale alla rovina di tutto un sogno fu solamente dopo un'ora di riflessioni amarissime che ella sentì un soffio di rassegnazione penetrarle nel cuore ma pur essendosi calmata un'amaritudine gliene rimase si levò risolutamente andò a leggere l'orario sulla parete stuccata di bianco avrebbe potuto partire soltanto la sera alle dieci e quarantacinque circa sette ore di attesa pure non ebbe il coraggio di rientrare in città a Napoli le sarebbe parsa una rinunzia completa avrebbe aspettato nella stazione non l'avrebbero mandata via da quella sala d'aspetto non aveva mai viaggiato sola non sapeva niente il guardiano le si accostò guardandola curiosamente ella gli donò subito cinque lire si sentì meno timorosa cercava di ricostruire il suo piano bisognava innanzitutto telegrafare a Ferrante e tal pensiero la faceva arrossire pensava che avrebbe egli detto trovandola così sciocca così distratta da perdere il treno che dirà? che dirà? si andava domandando mentre girava intorno alla stazione senza ritrovare l'ufficio telegrafico alla fine lo trovò e allora non seppe dove indirizzare il telegramma non seppe che cosa dire si sentiva così irritata e umiliata con se stessa col caso che lacerò i fogli senza riuscire alla fine mettendo l'indirizzo della stazione di Roma gli telegrafò così confusamente che le riusciva impossibile partire prima delle dieci e quarantacinque senza aggiungere le ragioni di questo impossibile e soggiunse umilmente perdonami lo soggiunse poiché non poteva resistere all'idea del dolore di lui Ferrante non vedendola giungere alla stazione di Roma trovando un telegramma invece della sua persona oh quelle sette ore di attesa la pallida signora vestita di un grande mantello bruno tutta chiusa in un grande velo di garza bruna snella e flessuosa nella sua persona dall'andatura un po' lenta un po' stanca fu vista dappertutto ripetutamente nella stazione per quel pomeriggio e per quella sera innanzi alle lunghe vetrine del libraio e nella sala gelida dei bagagli camminando fermandosi sfogliando distrattamente un libro aprendo un giornale illustrato di nuovo alla sala del telegrafo donde telegrafò a Sorrento a due o tre persone che non la interessavano punto verso le sette nella sala del buffet dove prese un brodo e una tazza di caffè malgrado che non avesse fame seguendo con l'occhio distratto i multicolori avvisi della macchina Singer della Coca-Bouton e della ferrovia Lombarda ai Tre Laghi fu vista fin anche fuori stazione passeggiare in giù e in su facendo voltare tutti quelli che la incontravano mentre essa guardava certo senza vederli il malinconico giardinetto della piazza e le carrozze d'annolo disposte intorno come i raggi di un cerchio e le insegne dondolanti degli equivoci alberghi dal fanale verde o rosso e da capo come se ella non potesse stare ferma fu incontrata al telegrafo alla posta nei terreni incolti della piccola velocità presso il venditore di libri e di giornali su e giù su e giù per tutte le gallerie questo irrequieto fantasma muliebre vide empirsi e vuotarsi le sale di aspetto dei viaggiatori che partivano successivamente per le linee di Salerno di Castellammare di Foggia di Aquila vide fermarsi e andarse nei treni carichi di uomini di donne di borghesi e di contadini che se ne andavano ai loro affari al loro lavoro alle loro cure e nella ultima ora di attesa la invasi una stanchezza profonda rincantucciata in un angolo della sala di aspetto silenziosa immobile col sacchetto sulle ginocchia ella guardava le ondeggianti fiammelle del gas che il vento della sera agitava e fu il guardiano della sala che l'avvertì della partenza tanto in lei si era fatta la convinzione che era inutile più partire che Ferrante non l'amava più che tutto era finito tutta la notte del viaggio lunga lenta con le sue numerose monotone fermate ella la passò in una veglia dolorosa alternata da qualche torpore doloroso tutta sola nel suo compartimento tremando di freddo malgrado le coperte e le pellicce l'alba si levò sulla severa campagna romana donna grazia dormiva ora pallida pallida e solo i tre lunghi striduli fischi del treno che entrava in Roma la riscossero le parve di uscire da un sogno triste il sole illuminava le prime case di Roma e la nebbia romana e il fumo del treno una felicità di calore e di luce l'avvolse scendendo dal vagone poggiando la sua mano sottile guantata sempre di nero in quella tremante di ferrante si guardarono così lungamente fra la folla tenendosi per mano camminando quasi portati sei venuta poi mormorò lui cercando di dominare la propria emozione intensa soffocante credevi che non venissi più chiese lei con uno sguardo scrutatore fermandosi un minuto sì l'ho creduto soggiunse lui chinando gli occhi confessando con quelle parole tutte le angosce della sua serata e della sua nottata mi perdoni domando lei umilmente dolorosamente sentendo bene che fra loro era già sorto e consumato il primo dolore non dir così tu ti puoi dare e ti puoi ritogliere disse fermamente lui guardando altrove per non far vedere che sforzo questa fermezza gli costava essa non rispose poteva dirgli che il proprio ritardo non era stata una crudele esitazione l'idea nuovamente feroce di spezzare quell'amore poteva semplicemente dirgli che era stata la perdita di cinque minuti per annodare il velo del cappello o per prendere il taccuino dimenticato e che quindi ella aveva perduto il treno le parve questa ingenua narrazione così ridicola così volgare che non osò farla e lasciò per viltà che perdurasse quell'amaro malinteso quel senso triste di sfiducia che era nato nell'animo di Ferrante adesso col facchino dietro erano in piazza della stazione dove andiamo e la chiese non so rispose Ferrante incerto avremmo dovuto partire ieri sera stanotte io non sono rientrato in casa mia ero così turbato quando parte il prossimo treno per Firenze disse ella brevemente alle dieci e mezzo fra tre ore tre ore tre ore mormorò grazia come pensando vuoi che ti accompagni a casa mia non vi è nessuno o in albergo e il verbo accompagnare era stato molto sottolineato no no a casa tua rispose subito grazia con una paura nella voce allora in albergo soggiunse lui pazientemente sì ma senza entrare in Roma e abbassò gli occhi come vergognandosi via il continentale qui dietro in piazza margherita non ti stancherai molto seguiti dal facchino che portava le loro robe vi andarono sotto voce come se indovinasse le intenzioni di grazia Ferrante chiese due stanze al segretario dell'albergo sotto voce costui gli domandò se le voleva vicine e Ferrante gli disse subito che non importava grazia saliva innanzi chinando il capo alla porta della sua stanza il segretario li salutò e la restò ferma guardando Ferrante con la mano appoggiata sulla maniglia della porta rammentati è alle dieci e mezzo verrò a prenderti alle dieci disse Ferrante gelidamente le fece un saluto corretto e si allontanò subito grazie a tutti